amiche che seguite mister topolini vi presento subito questo bronzo di riace e l'aspirante al titolo di mister numero 14 numero 14 nome e cognome piano sperdi guardate il ciuffo robbie williams gli fa davvero un baffo non so se possiamo inquadrare il ciuffo guardate la robbie williams in confronto è una mezza schiappetta allora senti parlaci un po di te dai raccontati qui per le amiche di mister topolini ma diciamo che la mia grande passione è il calcio pratico a livello dilettantistico ruolo ruolo portiere a che bello è bello faticoso dal punto di vista ecco e poi studio studio frequento i sandrinelli scuola commerciale speriamo di riuscire a di filmarci al più presto ah sì sei tranquillo e così a tempo perso ti sei anche scritto a mister topolini perché ma conoscevo insomma ho fatto diversi lavoretti per la b nice e mi hanno detto di provare perché no bravo non hai hai fatto bene a non esitare il tuo grande sogno nel cassetto al di là di quello di diventare sicuramente portiere della nazionale sicuro un sogno che nel cassetto ma essere felice per il resto della mia vita oh ma che belle parole guardate lo bacerei io cari amiche per tutti voi ma non posso allora senti va bene tu sei fidanzato sì 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 quindi per felicità intendi anche quello continuare così assolutamente assolutamente va bene allora quella è la telecamera di mister topolini a te la parola di e saluta chi vuoi ciao belli ciao 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 ciao